Il contributo dei cattolici allo sviluppo del paese e l'impegno comune in favore della pace nell'Africa occidentale sono stati al centro del colloquio di Papa Francesco insieme con il Presidente della Repubblica del Togo, Fore Nassimbe, ricevuti in udienza in Vaticano. Nel corso dell'incontro il Papa e il Presidente togolese hanno preso atto delle buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Togo e delle prospettive di un loro ulteriore consolidamento. Si sono poi soffermati sul contributo dei cattolici al progresso integrale del popolo togolese, in particolare nel campo educativo. Infine hanno ribadito l'importanza di proseguire nell'impegno comune a favore della sicurezza e della pace nella Regione.